con bernardo una squadra e incontra rasia racca crolla di montigni leader della lega non sarò capolista spazio e senza tessera di partito trovate questo articolo all'interno della newsletter buongiorno milano ogni giorno alle ore 7 dal lunedì al venerdì iscritti alla community del giorno riceveranno una newsletter dedicataia città di milano per la prima volta i lettori potranno scegliere un prodotto completo che offre un'informazione dettagliata arricchita da tanti contenuti personalizzati oltre alle notizie locali una guida sempre aggiornata per vivere in maniera nuova la propria città consigli di lettura e molto altro milano le piste ciclabili in corso buonas aires vado io con il pennello a sbianchettare la pista ciclabile il segretario della lega matteo salvini entra alle stelline di corso magenta con il candidato sindaco del centrodestra luca bernardo e attacca subito la politica sulla mobilità della giunta sala bernardo poco dopo aggiunge le piste ciclabili vanno ridisegnate all'interno di un progetto e soprattutto ascoltando i residenti poi ci sono alcune piste che a milano hanno poco senso di esistere quelle in corso buonas aires o in porta nuova davanti all'ospedale dove creano intasamenti e bloccano le ambulanze salvini intanto rincara la dose contro l'amministrazione di centrosinistra vedo un certo nervosismo di sala il sole 24 ore la piazzato all'ottantunesimo posto tra i sindaci più apprezzati d'italia da milanese bisogna aspirare a qualcosa di più e di meglio sala ambiva da altre posizioni nazionali ma a sinistra non gliene hanno trovate bernardo invece mette a disposizione la sua professionalità e il suo percorso culturale ma non sarà un uomo solo al comando stiamo lavorando per costruire una squadra ieri pomeriggio salvini ha incontrato a palazzo lombardia nell'ufficio dell'assessore leghista e commissario cittadino del carroccio stefano bolognini quattro persone il comunicatore roberto rasia la presidente di federfarma anna rosa racca il manager simone crolla e il responsabile della comunicazione di mediolanum oscar di montigni il momento è che il suo percorso culturale ma non è un po' di più e di più e di più il momento è che il nostro percorso culturale è un po' di più e di più e di più